mini recensione richiesta tramite donazione patreon da marco g che mi chiede di parlare del film di brian singer del 2006 superman returns con brandon root appunto nel ruolo del nostro omone con la bella e brava kate bosworth a fare lois lane un ottimo frank langella a fare per i white perfetta parche posi a fare i kitty e un ottimo cavin spesi a fare l'ex luther il film è praticamente un seguito diretto dei film di donne del film di donne si collega direttamente al numero due del film di donne della serie di superman praticamente quello di donne proprio perché il nostro singer in realtà stava girando x-men e poi è stato attratto proprio dell'idea di girare un film sul superiore di krypton che non conosceva ma dopo aver visto il film di donne se ne era praticamente innamorata e voleva farne un seguito un seguito molto particolare perché la storia appunto è quella di superman che è tornato ben dopo cinque anni di assenza dalla terra perché è andata a cercare se era rimasto qualcuno in vita sul suo pianeta krypton quando torna praticamente trova la sua amata lois lane che in realtà ha un figlio ed è innamorata di un certo white un uomo col quale convive da un bel po di tempo e il nostro va a trovare chiaramente sua madre marta e poi torna a fare chiaramente clark kent e noi scopriamo che luther in realtà in questo periodo è stato sposato con una vecchiona che all'inizio li lascia di tutto e il nostro riesce finalmente a ricostruire il suo piano per riuscire a distruggere superman arriva diciamo così nella città dei ghiacci dove il nostro era praticamente come fosse a casa sua risente tutto quello che ha registrato qui abbiamo un marlon brando in cgi ricostruito perfettamente e praticamente crea una trappola incredibile con la con la kryptonite dove crea un isola e tutto il resto e voglio dirvi più perché magari il film non l'avete visto là il film bisogna dire che non è un film perfetto assolutamente la regia di brian singer però è eccezionale bisogna dire la verità proprio a livello tecnico è una regia clamorosa e il pensiero che questo film abbia incassato solo diciamo 400 milioni su un centinaio costato è veramente una tristezza che gliela abbiano levato di male per poi darlo in mano a snyder e quella merda dell'uomo d'acciaio quando doveva uscire il seguito di questo che secondo me sarebbe stata ancora più superiore ripeto la sceneggiatura di doherty harris con una punta di di del nostro singer funziona abbastanza bene riesce ad essere un film è malinconico in un certo senso riesce però a trasportare superman nei nostri tempi e ce la faceva a livello visivo con dei grandissimi effetti speciali è un'idea appunto è di messa in scena notevole perché il montaggio è fantastico la fotografia di poco eccellente di un sigle in forma strepitosa così come la colonna sonora di uno di un grande john ottman per un film che ripeto funziona abbastanza bene nel senso che riesce a essere interessante proprio per il rapporto fra lois lane e class car kent superman riesce a essere interessante per il bambino riesce a essere interessante per molte cose però secondo me cade direttamente sul cattivo non perché mal interpretato l'ex tutor è un grande e il grandissimo che mi spesso lo fa abbastanza bene ma il suo piano è abbastanza veramente ridicolo e viene messo in scena in modo così è ottimo a livello tecnico ottimo a livello visivo ma in un certo senso si perde si perde attraverso una scrittura che banalizza un po tutto quello che avevamo visto nella prima ora e mezzo va detto che il film dura tanto sono due ore e mezzo di film due ore e mezzo che però vanno via che è una bellezza perché il ritmo è quello giusto ripeto perché parte rare fatto è un film malinconico è un film cupo in un certo senso per essere superman che si apre a sprazzi di luce ma che in realtà vive ed è esclusivamente dalla grande forza di singer e dell'idea appunto dello stesso di mantenere questo superman particolare questo superman che non si riesce bene a capire che cosa pensa che cosa vuol fare e se non assolutamente essere tornato distrutto da un viaggio che in realtà gli ha fatto perdere solo amore tempo e la passione appunto della donna che ama e quindi in tutto questo si racconta appunto poi la storia l'avventura e l'azione che sembra quasi la parte peggiore in un certo senso la parte umana di superman qui riesce a essere molto più credibile che in tutti i film che hanno fatto probabilmente di superman non metto di mezzo la roba di snyder ripeto perché quella è sporcizia pura e qui si riesce a fare a capire appunto questa personaggio questo alieno immortale così potente che in realtà vive appunto su un pianeta dove potrebbe essere un dio potrebbe comandare e cerca di mantenere sempre comunque la sua forza e la sua intelligenza per legarla insomma al bene dell'umanità un film che lavora e ragiona sui personaggi in maniera ottima e che ragiona purtroppo in maniera abbastanza sbagliata sul livello dell'azione non per come è messo in scena ma per come è pensato da una sceneggiatura che secondo me funziona bene sui personaggi ma non funziona bene su ciò che i personaggi dovranno fare a livello proprio è di intrattenimento puro di quello che sarà poi l'effetto visivo che è ottimo va chiaro ripeto è chiaro ma che però sinceramente secondo me non funziona al dovere e il film zoppica inizia a zoppicare proprio perché il piano di Lex Luthor poi alla fine è semplicemente quello di Ostro in Isola fatta di Kriptonite quindi boh insomma il finale lascia veramente delusi ed è un peccato perché comunque è spezzato si sperava che nel due singer io speravo potesse dare un colpo d'ala come ha fatto con X-Men 2 questo non vale assolutamente nemmeno il primo X-Men ma è un film di supereroe che fosse uscito adesso avvenne perché comunque riesce ad avere del grande cinema delle grandi scene spettacolari riesce ad avere una regia incredibile e riesce come ho detto comunque a dare delle forti emozioni a tratti quando il film è riuscito in altri momenti purtroppo la noia regna sovrana il link del film è qua sotto su Patreon mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante del superi grazie per donare direttamente su YouTube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia e ripeto questo Superman Returns in confronto a tutti gli altri superi che hanno fatto post Donner è un capolavoro è un unico classic film che se amate comunque i cinefumetti io non mi perderei perché nonostante i suoi difetti evidenti è uno dei classici film fatti col cuore e con la testa e si vede visto che ci sono alcune sequenze che sono veramente meravigliose a voi l'ultima parola